benvenute benvenuti attendiamo solo qualche istante che tutte le persone in sala d'attesa riescano a entrare efficacemente collegarsi alla conferenza benvenute benvenuti eccoci mi dicono dalla regia che siamo tutti collegati quindi possiamo iniziare quei lavori quindi benvenute benvenuti a questo incontro di presentazione del piano strategico metropolitano 2021 2023 evento culmine di un percorso lungo iniziato lo scorso settembre ottobre 2020 col processo di ascolto di coinvolgimento del territorio per l'elaborazione del piano e poi culminato con l'approvazione in consiglio metropolitano dello scorso mese di febbraio 2021 prego la regia di mostrare subito la slide relativa alla scaletta perché quest'oggi avremo un parterre di interventi che come potete vedere è molto fitto otto interventi per una durata complessiva di due ore di conferenza in cui verranno sviscerati tutti tutti i temi riguardanti questa nuova pianificazione strategica 2021 2023 si inizierà con i saluti e l'introduzione del consigliere delegato dimitri de vita a cui seguirà l'intervento del presidente della terza commissione consigliare della città metropolitana di torino mauro carena dopodiché vi saranno gli interventi molto importanti dei due rettori del politecnico dell'università di torino enti che ovviamente hanno partecipato al all'elaborazione del piano politecnico per quanto riguarda la parte di analisi e poi di elaborazione del documento di piano e l'università di torino per quanto riguarda tutte le attività di coinvolgimento e di ascolto del territorio che sono state svolte durante ottobre novembre dicembre dello scorso anno in particolare mi fa piacere ricordare ruolo di progettazione avuto dalla dottoressa di analisi politiche pubbliche stefania ravazzi con cui ho avuto la fortuna di collaborare durante questo percorso per di fatto andare a realizzare organizzare un processo che è stato capace di coinvolgere quasi 600 partecipanti unici e ha visto l'organizzazione di 11 e 20 11 incontri territoriali e più di 24 focus group di progettazione dopodiché vi sarà l'intervento si entrerà nel vivo dell'illustrazione del piano con l'intervento del professor oviglio inerente il piano torino metropoli aumentata questo il titolo della pianificazione si andrà si proseguirà poi con l'intervento della professoressa erana bengo del gruppo tiresa school school of management del politecnico di milano che tratterà in particolare il tema della rendicontazione del monitoraggio degli impatti del piano strategico dopodiché vi sarà l'intervento della senatrice virginia tiraboschi che tratterà il tema del piano nazionale di ripartenza e resilienza vi sarà poi l'intervento della direttrice della regione piemonte paola casagrante che tratterà il tema molto importante della nuova programmazione europea per il settembre nato duemila ventuno duemila ventisette i lavori si concluderanno infine con un intervento relativo all'attuazione del piano strategico da parte eh del direttore generale Filippo Dani e le conclusioni della sindaca metropolitana Chiara Appendino non mi dilungherei oltre ma iniziare subito col primo intervento di saluti e di introduzione a cura del consigliere delegato Dimitri De Vita prego consigliere la vediamo buongiorno grazie a tutti grazie a tutti anche per essere così numerosi a questa presentazione eh parliamo di una Torino aumentata il piano strategico è a questo che mira ed è supportato finalmente da una metodologia di carattere tecnico scientifica vale a dire quindi rigorosa nella sua metodologia e che mira questa volta ad un respiro molto più ampio che quella del mandato elettorale di un politico perché se prima i desiderata erano di natura politica molte volte limitati nel tempo proprio perché connessi a quella che era l'attività politica di ciascuno di noi stavolta finalmente con il supporto dell'Università di Torino e del Politecnico abbiamo la possibilità per quanto dover eh redigere un piano strategico di durata triennale di poter progettare finalmente opere di interventi che avranno respiro strutturale e soprattutto veramente prolungato nel tempo perché possano dare quei risultati ai quali tutti aneliamo Torino e quando dico Torino io mi riferisco a tutta la conurbazione torinese eh equivale stavolta alla città metropolitana una città dopo certi aspetti molto particolare perché è una città metro montana pensiamo che il 52 per cento del suo territorio si sviluppa appunto su un territorio montano e rurale eh il ehm grosso eh problema è proprio quel divario che si è creato negli anni il tra Torino e la sua periferia eh quindi tra la pianura e la montagna a fatti specie un gap che eh negli anni eh è sembrato quasi incolmante ed è da lì che dobbiamo partire come abbiamo fatto con la stesura del primo piano eh poi eh questa diminuzione l'abbiamo vista eh in termini eh di capacità sociale di capacità culturale di lavoro di sviluppo trasportistica di gestione dei sistemi ambientali e dei rifiuti eh è un quadro che dura ormai eh da vent'anni abbiamo detto e eh ed è necessario a questo punto eh risalire la china ma in che modo? Anzitutto riguardare non solo agli aspetti politici e soprattutto pratici che si legano alla conformità di un piano che finalmente ha una metodologia di natura scientifica ma soprattutto eh nel guardare anche a quello che è stato e che sarà il sistema di potere nella città metropolitana di Torino perché è molto semplice dare le colpe solamente alla politica ma la politica non fa a meno perché lo sappiamo benissimo del sistema di potere che esiste in città metropolitana ed era al sistema di potere che io chiedo quella capacità di sapersi rinnovare eh così come dovrà fare la politica perché non è pensabile che le colpe oggi possono ricadere solamente sugli amministratori pubblici. Detto questo io eh ho verificato che eh la città metropolitana è quella che in termini di ricerca sviluppo e di innovazione in tutto il nord eh il nord Italia eh investe eh quasi il doppio del proprio PIPA però a differenza delle eh delle altre regioni del nord Italia soprattutto se facciamo un po' pronto con la Lombardia e con il Veneto noi abbiamo una crescita del PIP che è la metà rispetto alle altre. Questo perché? Perché la grande maggioranza delle imprese che testano innovazione eh e ricerca sono soprattutto grandi e medie imprese che poi corrispondono eh percentualmente allo 0,1 e allo 0,6 di tutto il mondo imprenditoriale che è stato soprattutto di micro e piccole imprese ed è a quelle che dobbiamo guardare con particolare attenzione per tutti i processi di sviluppo e eh di digitalizzazione di trasferimento tecnologico per il futuro. Eh una digitalizzazione che soprattutto in una situazione di pandemia ha visto e eh ci ha mostrato la drammaticità di questo eh di questa divisione di questo digital divide che esiste sul nostro territorio e che ci ha impegnati sin da subito a verificare quali siano le condizioni per ripristinare una eh pieno accesso da parte di tutta la città metropolitana alle strutture digitali e quindi eh di migliorare la connessione sul nostro territorio. Questo lo faremo indipendentemente dalla strutturazione del piano strategico che come sappiamo eh per chi ha seguito già i precedenti incontri si struttura su quelli che sono i sei assi fondamentali del piano nazionale di ripresa e resilienza attraverso strategie ed azioni dirette che vogliamo poi ripercorrere sul territorio ma che inevitabilmente eh ci ha portati alla conclusione di partir sin da subito quindi ancor prima di eh ricevere i finanziamenti di recovery town noi siamo partiti con uno studio di passibilità sul nostro territorio e partiremo proprio dalle zone rurali da quelle che hanno questa grossa difficoltà eh in termini di eh di connessione e di radio digitale. Eh la relazione eh tra Torino e la periferia e anche di natura trasportivistica ed è proprio sulla eh sui trasporti che noi eh incideremo in maniera eh veramente intima con il piano strategico perché adesso sarà connesso il nuovo piano urbano della mobilità sostenibile dal quale poi arriveranno altri finanziamenti per le infrastrutture del futuro che riteniamo indispensabili su tutto il territorio metropolitano e su questo punto la città metropolitana e Dio in particolare mi sono impegnato affinché ciascun territorio ciascun comune ancorché eh eh presenti ai limiti del nostro territorio eh quindi anche a livello montano o alto montano sia collegato con anche con servizio a chiamata agli hub trasportisti e centri modali più importanti del nostro territorio affinché vi sia questa connessione. Una città metropolitana che nel futuro dovrà essere multicentrica. Eh non è pensabile che solo sul Torino debba gravitare tutta l'attività produttiva, tutta l'attività istituzionale e amministrativa della città metropolitana e su questo eh il sistema digitale diventa di fondamentale importanza non solo da parte della pubblica amministrazione ma anche per quanto concerne l'iniziativa privata sulla quale noi siamo mossi dal suddito e continueremo in questa attività. Eh è ovvio eh che il disagio che si è creato negli anni e che noi abbiamo ripreso in termini strategici è quello di natura soprattutto sociale. Eh non ho visto una particolare attenzione da parte del piano nazionale di presa e residenza sul terzo settore che per noi invece diventa fondamentale in termini anche di misurazione della partecipazione del privato, una misurazione che va valutata soprattutto per quanto concerne gli obiettivi da raggiungere ed è fondamentale che un'iniziativa pubblico privata nel terzo settore per colmare questo divario sociale che si è creato e che continuerà a peggiorare negli anni da subito necessita di un nostro intervento. Il problema ambientale, il problema ambientale lo conosciamo da tutti, è un problema di natura eh interregionale eh che però non non prescinde dalla eh trattazione del tema rifiuti. Il tema rifiuti c'è ancora molto da fare in termini di eh recupero soprattutto eh di riciclaggio eh delle delle materie prime eh deve esserci un problema eh sicuramente di natura educativa oltre che eh economica alla base di quello che non ci permette di raggiungere i livelli che normalmente sono in altre parti d'Europa ed è su questo che bisognerà naturalmente attivare. Io mh adesso eh per quanto voglio concludere rapidamente e dare la parola a tutti gli altri relatori in considerazione devo fare necessariamente sul mondo del lavoro e del mondo del lavoro di noi. Eh il tema eh dell'apprendistato eh è un tema che va rivalutato e va rivisto soprattutto sotto l'aspetto pubblico perché eh se eh non si facilita eh l'apprendistato in termini economici presso le aziende noi non avremo la possibilità di eh far entrare nel mondo del lavoro tutti i nostri giovani eh per questo io credo che debba esserci un intervento sovra eh metropolitano sovra regionale che non può che essere nazionale e eh agisca a livello territoriale soprattutto per quanto concerne il finanziamento del dell'apprendistato presso eh le aziende. Ci troviamo molte volte di fronte a giovani che pur avendo compiuto un loro percorso eh preparatorio al mondo del lavoro eh non corrispondono in termini manzionari a quelle che sono le richieste, le nuove richieste delle aziende e su questo credo anche che sotto l'aspetto della formazione qualcosa in regione vada rivisto alla luce di quelle che sono le figure professionali che a tutto oggi non vengono eh non vengono trovati. Sempre a livello multicentrico eh reputo fondamentale l'attivazione di veri e propri centri di matching del lavoro, vale a dire eh le eh le cosiddette eh eh il eh dei travai che eh sono state create in Francia per veri e propri centri aperti eh all'incontro tra eh mondo del lavoro e cerca lavoro. Queste sono attività eh per le quali che abbiamo abbiamo trovato trovare di grandi spazi al chiuso eh strutturarli ma eh pensiamo che debbano necessariamente essere predisposti al di fuori della cintura torinese proprio per rilevare eh l'importanza eh quella che è eh la multicentricità del nostro territorio. Eh auguro buon lavoro a tutti eh sono particolarmente lieto che il piano ci sia stato approvato e finalmente un piano di lungo respiro eh aspetto naturalmente eh eventuali eh note eh quello che eh sarà detto e eh in termini tecnici approfondito soprattutto dal professor Robiglio del Politecnico. Grazie a tutti. Grazie a lei consigliere a questo punto darei la parola per il secondo intervento a Mauro Carena presidente della terza commissione consigliare della città metropolitana di Torino. Prego presidente. Buongiorno innanzitutto buongiorno a tutti ehm credo che questa assemblea assolutamente qualificata estremamente importante debba avere eh come dire subito una chiarezza su su quello che è lo scopo su quello che che è il fine ultimo di questo piano. Il primo è trovare come fine uno strumento per gli amministratori. Gli amministratori oggi lo sanno che pur essendo in gamba pur essendo persone che si sacrificano che tolgono tempo al loro lavoro che tolgono energia alla loro vita privata le loro famiglie mancano sovente di strumenti sono esposti a molti rischi sono esposti a grandi responsabilità ma sovente non ci sono strumenti né finanziari e neanche studi e neanche teorici per poter intervenire per poter lavorare per poter fare quello che deve fare un amministratore cioè progettare perché noi siamo lì non per riparare una strada o per semplicemente fare una manutenzione per questo bastano i tecnici la politica gli amministratori hanno un altro ruolo che è quello di progettazione. Allora ben venga il ruolo che anche in questo piano è stato determinante dell'università ben venga il ruolo del mondo del lavoro ben venga il fatto che università è il mondo del lavoro rimanendo ognuno se stesso quindi distinti abbiano avuto però la capacità di lavorare insieme e abbiano la capacità di dare il proprio apporto e di avere un'interconnessione che sovente che sovente il mondo accademico anela e il mondo del lavoro si aspetta e allora solo per essere estremamente conciso quello che emerge è uno studio serio è uno studio professionale uno studio importante è uno studio che però questo l'ho molto apprezzato anche come commissione ho avuto occasione di dirlo parte da un presupposto vero c'è la città di torino dove abbiamo magari crisi dove abbiamo difficoltà dove abbiamo bisogno di ripensare a una torino futura con nuovi sistemi con nuove sinergie con nuovi approcci anche culturali e mentali oltre che economici ci sono altre grandi città nella città metropolitana di torino perché noi siamo l'unico noi siamo 300 e 12 comuni noi siamo un territorio diversissimo torino dicevo le grandi città a volte a cuscinetto a volte intorno a torino ma che sovente fanno a meno di torino nelle loro decisioni o comunque diventano esse stesse dei centri funzionali autonomi oppure sono anche lontane poi abbiamo tutto il resto del sistema fatto di campagne di montagne di vallate a loro volta montagne e campagne diversissime perché la montagna dello sci non è la stessa montagna di dove lo sci non c'è per fare un esempio perché dico questo perché il vero tema è questa diversità il vero tema di questo studio l'applicazione di questo studio l'utilità di questo per trasmetterlo agli amministratori e fare uno strumento importante e capire che noi dobbiamo avere un sistema policentrico cosa vuol dire policentrico non è soltanto una definizione vuol dire più centri non un centro e delle periferie non torino e poi man mano che ci si allontana da torino si parli di ambiente si parli di viabilità si parli di economia si parli di sanità si parli di qualunque tema diventa periferico diventa qualcosa che man mano che ci si allontana a delle come dire forze minori o degli impulsi minori no noi abbiamo bisogno di una città metropolitana che è diversa ma che ha un sistema policentrico c'è tanti centri non un centro e non delle periferie non una serie a e non una serie b dove purtroppo invece ci si trova a non riuscire a far sentire la propria voce la propria voce le grandi città la fanno sentire a prescindere questo studio l'amministrazione serve proprio per far sentire invece la voce di quei centri minori di quelle realtà che sono magari non così popolate non così numericamente importanti ma altrettanto significative e chiudo dicendo che i servizi di cui noi parliamo oggi sono essenziali perché se vogliamo credere in un sistema policentrico dobbiamo pensare alle strade ma dobbiamo anche pensare a quelle che sono le strade di di oggi cioè ad esempio tutto quello che il sistema del digitale tutto quello che anche un sistema la butto lì di telefonia non è pensabile che noi si abbia ancora dei problemi in moltissime zone su questi su questi strumenti che permettono in realtà di lavorare di vivere anche senza doversi spostare continuamente o di vivere in posti che non sono la grande città allora tutto questo tutto questo se lo interpretiamo non più come torino il centro le beriferie da cui ci si allontana appunto da torino e quindi si ragiona diversamente ma sempre in funzione di torino ma viceversa la stessa torino comprende che c'è un vantaggio enorme a ragionare con un sistema diverso e con tanti altri centri di interesse fa sì che questo studio diventi veramente importante non basta non basta ci vogliono i finanziamenti e questo capisco da amministratore da sindaco lo capisco e lo lo conosco perché noi possiamo fare della teoria ma poi abbiamo bisogno dei soldi per realizzarlo ma ma è anche vero che soprattutto oggi giustamente dico io se non hai progetti se non hai studi non puoi avere neanche i soldi non puoi avere neanche i finanziamenti non puoi avere neanche come dire dei contributi che altrimenti non hanno ragione di essere se non inseriti in un progetto ecco perché questo è uno strumento veramente importante oltre che concludo davvero tornando a quella che la definizione iniziale cioè se le differenze non diventano più un problema ma diventano un valore aggiunto e quindi non ci sono degli antagonismi non ci sono delle come dire delle situazioni in cui se si avvantaggia un centro se si avvantaggia una città ci rimette per forza l'altra ma si fa sistema e allora anche le differenze diventano una forza e gli interessi di tutti possono essere tutelati ma soprattutto non a scapito di qualcuno questo è credo la filosofia di questo studio questa è la filosofia di questo piano questo è un nuovo approccio policentrico ma soprattutto questo è un nuovo approccio per i nostri cittadini e per loro i servizi e per progettare come deve fare la politica e la pubblica amministrazione grazie grazie a lei presidente carena a questo punto proseguirei con gli altri due interventi gli interventi a cura degli atenei della città che hanno supportato e hanno avuto un ruolo fondamentale in questo il processo di elaborazione del piano iniziando dal Politecnico di Torino che di fatto ha condotto poi le analisi e l'elaborazione stessa del documento della pianificazione per cui è presente la prolettrice e la professoressa Patrizia Lombardi che ringrazio per un suo saluto e un suo commento buongiorno a tutte e a tutti sarò molto rapida con questo sfondo del Castello del Valentino che è parte integrante della nostra città metropolitana che è la nostra sede storica dell'università per rappresentare l'impegno che le università il Politecnico ha profuso in questa in questa occasione con convinzione Torino è stata la prima città che ha iniziato la stagione dei piani strategici mai come in questa situazione storica è fondamentale un rinnovamento e una la realizzazione di un piano strategico e credo che oggi appunto abbiamo l'opportunità di come dire presentare questa in questa occasione il nuovo piano strategico fondamentale per dare questi questi indirizzi di futuro sono quindi molto orgogliosa di poter prendere parte a questa occasione a questo battesimo del piano strategico come prorettore e anche diciamo come ambito disciplinare molto vicino a questo a questo settore quindi ringrazio veramente molto per la realizzazione di questa di questa azione sinergica perché come dicevano i precedenti interlocutori è fondamentale un'azione di partnership mai come adesso per poter realizzare queste questa nuova transizione in cui la città il territorio che ha sofferto molto molto più di altri in in questa in questa periodo di 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 pandemia possa rivedere un futuro e una uno scenario di sviluppo coerente le università in questo senso giocano sicuramente un ruolo importante noi non ci tiriamo indietro e abbiamo dimostrato anche in questa occasione dell'importanza eh di fare squadra di cooperare e di supportare ehm gli enti locali territoriali nella realizzazione di questa eh di questo strumento con al centro eh le persone con al centro le imprese i servizi le direzioni eh di sviluppo la connessione con ehm tutta l'area territoriale perché siamo l'area metropolitana eh più grande più estesa eh d'Italia e ha eh e queste connessioni queste eh sinergie eh sono ben evidenti quindi grazie per questo invito e e grazie eh per questa eh occasione di collaborazione ehm con con grande convinzione e grande eh orgoglio eh ringrazio a tutti eh per questo eh grande sforzo in bocca al lupo. Grazie mille ancora rettrice eh a questo punto darei la parola eh all'altro ateneo al magnifico rettore Geuna eh dell'università di Torino che eh in particolare ha supportato l'elaborazione del piano ehm con le azioni di coinvolgimento e di ascolto del territorio quindi grazie e grazie sì ma io ho anche due parole chiave per per salutare dare anche uno spunto il primo come diceva Patrizia prima collaborazione collaborazione tra atenei al servizio del territorio qui direbbe eh il rettore Saraco un progetto che è partito a guida Politecnico ma che ha visto entrare eh subito fin dall'inizio anche colleghe e colleghi dell'Ateneo in particolare relativamente al processo di cosiddetta democrazia partecipata a cui io tengo molto che sto cercando di importare anche all'interno dell'Ateneo e e in generale quindi credo che ci sia stata una sinergia senza rivalità ma tutti cercando di portare i propri contributi per il bene comune quindi per il bene in questo caso di un piano strategico che riguarda la casa l'ambiente nel quale viviamo tutti e insistiamo e e a questo mi collego sulla seconda parola chiave che mi è piaciuta moltissimo l'ho sentita eh da chi mi ha anticipato nel nell'interventi il termine policentrico ecco questo è un termine che ho proprio voluto mettere nel nel progetto di elaborazione del piano strategico che sto portando avanti anche dell'Ateneo eh fino a al passato all'anno scorso si tendeva a parlare all'interno dell'università di sedi metropolitane ed extra metropolitane ecco io ho proprio voluto abolire questo termine metropolitano e extra metropolitano per parlare di di sedi policentriche eh ovviamente l'università come Politecnico nascono e insistono nella loro principale quantitativamente presenza nella città di Torino ma se parliamo in particolare dell'università ormai come ben sapete le nostre sedi e non parliamo di piccole sedi insistono in in molte altre città della 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 città metropolitana dell'ex provincia quindi Grudiasco, Bassano, Penaria eccetera quindi siamo già sul territorio e quindi le le sedi che non sono strettamente legate a Torino non sono extra qualcosa ma sono parte di un sistema multicentrico policentrico che che fa proprio del del multicentrismo la propria forza ma questo multicentrismo e poi l'apertura un non è che ci sono le città i comuni dove c'è l'università dove c'è il Politecnico e quelli dove non c'è in realtà la nostra ambizione ma non perché vogliamo essere così voler colonizzare ma è veramente essere dappertutto se pensiamo a quello che è la sfida della formazione di oggi ovvero la formazione anche esperienziale pratica quindi tirocini nelle aziende nei territori nelle istituzioni ecco la sfida che noi abbiamo davanti sono le esperienze il colloquiare con tutti gli attori di un territorio grande importante molto differenziato come la nostra città metropolitana e quindi non non ci fermiamo il multicentrismo il policentrismo vuol dire veramente capillarità di presenza anche nei comuni più piccoli dove magari insiste una certa attività una certa iniziativa che può essere esperienza formativa per le nostre studentesse i nostri studenti anche in un'ottica in un'ottica internazionale oggi noi stiamo lanciando come anche il Politecnico insieme importanti progetti di rural Erasmus cosiddetti quindi l'idea che l'Erasmus non è semplicemente andare nella capitale nel capoluogo ma è andare ed è quello che veramente forma non solo studentesse e studenti dei nostri atenei ma magari anzi e soprattutto studentesse e studenti che provengono da tutta Europa e dal mondo che hanno da imparare qualcosa andando a fare i propri tirocini e le proprie esperienze all'interno non solo appunto del centro o poco più della città ma di tutta la grande ricchezza del nostro bellissimo territorio portandosi poi a casa delle esperienze importanti e portando anche a noi perché ovviamente negli scambi soprattutto internazionali tutti guadagnano sia chi viene imparare ma ma impariamo anche noi da chi viene imparare quindi bene il ci piace un progetto un piano strategico di città metropolitana che abbia nelle sue corde proprio questa dimensione buon lavoro e complimenti grazie mille ancora rettore a questo punto entrerei nel vivo di questa presentazione dando la parola al coordinatore del gruppo di lavoro che ha supportato l'elaborazione del nuovo piano strategico e professor matteo robiglio del gruppo full e del politecnico di torino bene buongiorno a tutti e a tutti grazie alberto e grazie a chi mi ha preceduto per quello che ha detto e per avere già molto introdotto e grazie al gruppo di lavoro che qui rappresento e che ha intensamente costruito questa questa visione e l'ha costruita condividendola con il territorio e la prolettrice e il rettore hanno già detto qual è stato il nostro ruolo io lo vedo come un ruolo di facilitazione di chi ha in qualche modo dato forma collettivamente a quello che credo sia un ragionamento collettivo e non un sogno di pochi oggi avrebbe forse poco senso presentare il piano perché abbiamo fatto quello che i miei figli chiamerebbero uno spoilerone nel senso che il piano è sul sito della provincia da subito della città metropolitana scusate quindi mostra la via etana grafica della città metropolitana da quando è stato approvato e in ossequio anche a quello spirito di democrazia partecipativa che torna al territorio dicendo ecco e lo dice dando il tempo di leggere non facendo presentazioni mediatiche lo abbiamo addirittura poi messo sui sui giornali scaricabile con un semplice QR code che sia uno dei primi piani territoriali che a cui posso accedere avendo letto la cronaca sul giornale c'è stato anche un certo dibattito quindi io parlo di un documento ormai conosciuto e che ha una grana molto fine e che quindi richiederebbe molto tempo e sarebbe estremamente noioso entrare nel dettaglio di ognuna delle singole azioni alcune saranno fatte altre non lo saranno altre resteranno degli slogan ma la cosa importante è che nell'insieme poi ci tornerò vi sia un movimento nelle direzioni che il piano che il piano ha provato a tratteggiare a cui ha provato a dare forma oggi vorrei tornare da una parte a prima del piano alla visione all'elemento che a un certo punto prova a dire ma dove vorremmo andare e dall'altra parte al tema dell'attuazione che credo poi sia quello che preme a tutti e da bravi piemontesi ci chiederemo va bene ma adesso questo di tutto questo cosa ne faremo allora condivido con voi lo schermo non per fare il professore che presenta che fa lezione ma perché ho bisogno di qualche appoggio e che cosa dunque come faccio ad andare avanti qui c'è sempre il tema ecco andiamo perfetto ecco noi parliamo lo è stato detto all'inizio è stato detto dal consigliere del presidente Marengo un territorio che è forte e bello voglio anche dire per la sua diversità che abbiamo raccolto fin dall'inizio in queste due immagini estreme la città densa ma anche la più verde d'italia è una delle più verdi d'europa quella in cui la natura grazie alle aste fluviali ai bulvar barocchi entra dentro la città ed esperienza quotidiana e dall'altra parte la montagna di abitata la montagna insediata in mezzo a questi due estremi sta tutta la straordinaria varietà di paesaggi di spazi di attività di economie di società locali che fa la forza a mio avviso di questa città metropolitana a volte è stata vissuta come un elemento di fragilità siamo troppi siamo troppo diversi come si fa a fare una città metropolitana che ha dei piccolissimi comuni montani e poi a una delle al più grande centro manifatturiero d'italia ecco proprio questo è quello che noi siamo e la cosa che che mi piacerebbe che questo piano fosse un momento in cui ci riconosciamo prima di tutto come questo e riconosciamo in questo la direzione in cui in cui vogliamo andare abbiamo estremizzata anche in questa rappresentazione provocatoria in cui è rappresentato il suolo insediato e il suolo invece aperto aperto ma antropizzato umanizzato un suolo coltivato un suolo frequentato quindi non è la città piena e la città vuota soltanto ma è il denso e lo spazio della natura anche questo il covid ci ha insegnato forse se ne avevamo ancora bisogno quanto è importante questa sinergia tra questi due spazi che qui provo toccativamente abbiamo rappresentato con il verde usato per l'urbanizzato al contrario di come facciamo di solito noi urbanisti e il rosso per il meno urbanizzato in una parola poi ci siamo chiesti che cosa qual era la parola chiave il piano strategico ha bisogno di dire una cosa sola in una riga lo insegnano lo insegnano nei nostri corsi a unito a pulito lo sanno i sindaci lo sanno i tecnici quando devi raccontare al territorio abbiamo immaginato che questa parola fosse l'aumentato dove aumentato questo è il dizionario è l'esperienza che facciamo tutti noi quando ormai ci muoviamo nello spazio della città con questo strumento in mano e con l'insieme degli strumenti che fanno sì che ormai siamo un ibrido tra umano e non umano tra naturale artificiale tra tecnico e sociale e anche qui è proprio questa differenza a volte contraddittoria a volte difficile che fa la nostra forza che cosa vuole dire però concretamente aumentare perché interessante perché gli economisti ci insegnano e lo dicono anche gli economisti e i sociologi geografi che hanno lavorato alle analisi del piano che la digitalizzazione è l'ultima rivoluzione industriale ma è quella che meno delle precedenti nella storia lunga di un territorio come il nostro ha scaricato a terra in termini di occupazione in termini di ricchezza in termini di aumento di produttività è rimasta ancora una promessa da cogliere eppure questa rivoluzione incompiuta se collegata a un territorio e questa è l'ambizione di questo piano se innervata può produrre uno straordinario impatto economico può finalmente diventare se veicolata le piccole e medie imprese se veicolate ai mondi dell'agricoltura della montagna i mondi del turismo in modo compiuto non è che non abbiamo fatto niente ma non l'abbiamo fatto al massimo delle possibilità può produrre un forte incremento di produttività di ricchezza di qualità e un aumento anche industriale vedrete poi tutti gli oggetti che in qualche modo diventano parte della realtà aumentata appartengono nella stragrande maggioranza a cose che siamo bravi e forti a produrre robotica elettronica meccatronica tecnologie avanzate informatica cioè cose che sono dentro il dna di questo territorio e che questo piano ha l'ambizione di scaricare a terra anche facendo di questo territorio un campo di sperimentazione di applicazione e di sviluppo di competitività industriale a tutte le scale d'impresa è un aumento territoriale perché per la prima volta con l'esperienza forzata di digitalizzazione massiva che la pandemia ci ha obbligato a fare abbiamo capito che forse è possibile ripensare la struttura insediativa che forse è possibile che lavorare in montagna non sia una diminuzione non sia una rinuncia a certi servizi ma sia un'altra forma di abitare metropolitano diversa ma è uguale nelle opportunità abbiamo provato a dire questo con la locuzione metropoli di 90 minuti che è l'equivalente della grande torino della città di 15 di 15 minuti di cui parlano molti sindaci perché questo perché avremo in futuro sempre più una dimensione di prossimità i 15 minuti e una dimensione di pendolarità non quotidiana che può quindi espandersi e se voi contate i 90 minuti di trasporto pubblico la geografia accessibile della città metropolitana è improvvisamente dilatata e siamo già completamente immersi in questa realtà ed infine sociale perché è possibile attraverso la realtà aumentata attraverso l'aumento tecnologico in primis dei servizi erogati al territorio superare quel tradizionale quel tradizionale divisione stavo usando un divide ma anche quella separazione tra centro e periferie e davvero essere una metropoli policentrica in cui le diversità non vogliono dire rinunciare a qualità dei servizi pensate la possibilità per citare solo due casi della teledidattica di cui stiamo facendo esperienza ma in condizioni di emergenza o della telemedicina queste sono le quattro ricadute del dell'aumentare e quindi che cosa possiamo eccoci cosa vuole dire ci siamo disciplinatamente orientati sugli assi del pnr e abbiamo provato a questi assi a dare una forma una visione sta andando troppo veloce scusatemi devo riuscire a governare la mia presentazione ma saremo molto rapidi eccoci significa innanzitutto aumentare come dicevo innovazione produttività la carta piccola e quella della torino attuale in cui ancora molto territorio fatica ad essere connesso e quindi a diventare luogo di innovazione la carta grande quella della metropoli aumentate in cui immaginiamo che la differenza di banda non debba più essere un problema alla fine del percorso di questo piano strategico abbiamo poi rappresentato questo in delle immagini visive si parla spesso di visione una delle cose che impariamo a fare io sono architetto e a immaginare come un mondo possibile potrebbe essere e che cosa vuol dire innovazione in un territorio aperto alpino che cosa vuol dire nel cuore della città industriale forse nel cuore della città industriale ce l'immaginiamo nel cuore dei territori rurali dei territori montani della città della grande metropoli alpina può essere un nuovo strato di supporto di meccanizzazione di digitalizzazione di infrastruttura ibrida tra umano e assistito che consenta ad esempio di risolvere alcune contraddizioni dell'agricoltura di montagna della scelta di abitare in contesti non densi attraverso la possibilità che aprono nuove tecnologie abbiamo immaginato una torino più verde e più ecologica vi propongo solo un esperimento mentale se noi collegassimo tutte le aree protette le aste fluviali le aree che sono già parco e le aree alpine dove non vi è pressione antropica ma vi è un prevalente uso ricreativo o forestale o agricolo avremmo costruito il più grande parco metropolitano del mondo sarebbe una volta e mezza più grande del parco di anchorage in alaska che è il più grande ma sapete in alaska è anche un po più facile che nel cuore dell'europa fare una cosa di questo genere e si sarebbe costituito anche un insieme completo di fruizioni quotidiana di fruizione turistica di sviluppo di connessione tra ad esempio tra i nostri poli e beni culturali che sono immersi all'interno di questa straordinaria occasione naturale che è l'ambiente che circonda i nostri abitati che cosa vuole dire vuole dire rafforzare questi corridoi che mostravamo e che collegano potenzialmente ad esempio lungo le aste fluviali i territori collinari i territori della pianura in rigo i territori alpini e le di fondo valle e immaginare di estendere questa rete sul sulle pendici delle alpi per renderle compiutamente fruibili percorribili in un insieme integrato di esperienze abbiamo immaginato una metropoli mobile accessibile collegata in cui svolge per noi una funzione prioritaria il trasporto pubblico su ferro le stagioni politiche passate ci hanno consegnato fortunatamente a partire dalle politiche preunitarie per arrivare fino al servizio ferroviario metropolitano una robusta rete infrastrutturale di ferro che può essere attrezzato ulteriormente qualificata ad esempio facendo delle stazioni in tutti i luoghi dei nuclei di rigenerazione urbana dei centri di servizio dei centri di interazione sociale anche questa è una sfida a portata di mano non oggi ma domani e si rappresenta in luoghi di straordinaria eccellenza come può essere una stazione di porta susa attrezzata e multifunzionale ma immediatamente connessa come già oggi alle stazioni delle città della pianura delle centri della collina e dei centri vallivi serviti dal treno che rappresentano anche qui un'infrastruttura persistente che troppo abbiamo lasciato trascurata in questi anni una metropoli che impara di più che al suo centro la formazione ed in particolare la formazione vocazionale di imparare a fare la cifra che è cifra di questo territorio che quasi nel suo codice genetico che si tratti del fare industriale del fare agricolo del fare della cura degli altri della cura del territorio e che quindi abbiamo voluto rappresentare in immagini di possibili luoghi di formazione in ambito industriale magari dentro uno dei tanti contenitori che attendono ancora una vocazione potrebbe essere il competence center potrebbe essere qualcosa sull'area legna ma anche in centri in cui la formazione ritorni in ambiente alpino vorrei vorremmo avere un'ambizione che si rialzi la quota a cui viene erogata il servizio didattico di qualità nei nostri territori anche attraverso la tele didattica in tutte le immagini vedrete che l'immagine di sinistra è contenuta nell'immagine di destra in un piccolo schermo perché questo collegamento rompe la distanza qualitativa tra luoghi e fa essere la nostro territorio un unico territorio che apprende e che impara e questa è una chiave fondamentale forse la più importante per le nostre per le nostre future generazioni più attrattiva più giusta ed uguale quindi una una metropoli che si prende cura e che offre cura e che di nuovo lo offre in luoghi urbani o lo offre in luoghi alpini attraverso nuove infrastrutture nuove architetture magari mettendo a sistema le scuole mettendo a sistema le stazioni mettendo a sistema gli edifici esistenti e facendo nei luoghi di un nuovo welfare urbano sono immagini una metropoli più sana infine che collega intuizioni come quelle delle case della salute di forme di erogazione territoriale alcune ancora da scoprire da reinventare è un terreno difficile lo abbiamo imparato e lo stiamo imparando nella nostra pelle in questa congiuntura pandemica ma che avrà potrebbe avere nel cuore della città della salute il suo hub per essere però centro della rete non un luogo dove devo andare ma un luogo da cui conoscenza diagnosi cura atterrano sul territorio sfruttando le opportunità straordinarie della tele diagnosi della della telemedicina e riqualificando finalmente in forme nuove i servizi in territorio che troppo spesso li hanno visti ma non da ieri dall'unità d'italia diminuire e retrocedere il piano come vi ho detto una grana molto fitta questa diagramma rappresenta i sei assi e rappresenta tutte le singole strategie e le singole azioni abbiamo scelto una grana fitta perché fosse possibile individuare delle cose da fare di quelle che scrivi la mattina quando dice ecco oggi vorrei cominciare a fare questa cosa e non delle azioni generali in cui poi è difficile capire se siamo andati avanti e siamo oppure non siamo andati avanti come lo leggete questo piano beh come l'avrete visto è un documento abbastanza complesso ma due note di lettura ogni azione una scheda che ha una breve descrizione che cita gli attori coinvolti gli strumenti riferiti cioè situa quest'azione dentro qualche cosa che è successo prima una pianificazione precedente delle decisioni da pre già prese degli atti già incamminati indica degli attori e indica i development goals cioè collega queste azioni a delle metriche ne parlerà poi dopo irene vengo del centro tirese del politecnico di milano vogliamo un piano che possa essere accountable come si dice cioè può essere reso responsabile e misurato nelle sue performance in modo semplice aperto ci pare questo partecipazione costruzione tecnica racconto e condivisione e infine attuazione misura il percorso di uno strumento di una politica pubblica virtuosa una nota allineare i traguardi ai development goals uno può dire ma e cosa serve non siamo mica le nazioni unite serve ad adottare una metrica coerente tra i diversi settori e la metrica ad esempio che ha adottato compagnia di san paolo e nei suoi recenti documenti strategici che è sempre più attori del territorio anche nei settori di impresa o dell'amministrazione adottano significa collegare un punto anche remoto del nostro territorio alle grandi questioni globali l'equità la giustizia il riscaldamento globale la cura delle acque il combattere l'esclusione sono i temi che abbiamo posto al centro della nostra agenda come esseri umani prima ancora che abitanti della città metropolitana il piano poi anche una rete perché queste azioni si parlano il territorio 1 e quindi quando proviamo a disegnare che cosa collega che cosa otteniamo questo che non è un gomitolo organo ingarbugliato ma è una struttura complessa non complicata che avendo pazienza si può percorrere e comprendere alla fine che uno è il territorio e uno è il grande movimento che dobbiamo essere in grado di costruire come si attua tutto questo come si si affronta si atto bene ne parlerà Filippo Dani nell'intervento giustamente conclusivo in cui ci dirà di quale struttura che struttura abbiamo immaginato di quale struttura la città si dota per per farlo però vorrei dire qualcosa oltre alla struttura di cui dirà Filippo è il territorio che attua il piano strategico perché questo e dall'inizio è stata questa l'indicazione forte della città metropolitana del dottor lupo non è il piano dell'ente è il piano del territorio non avremmo altre altrimenti fatto perdere così tanto tempo e quindi è un piano del territorio che è qui presente nella sua varietà e nella sua unità in una assise basta che credo non avremmo avuto se avessimo convocato una riunione reale anche questo è un buon segno dei tempi che stiamo attraversando di alcune conseguenze positive di fenomeni come la pandemia che ne hanno avute tante negative è un piano che si può adottare di cui anche attori esterni possono decidere di intestarsi un'azione in uno degli interventi più belli usciti in questi giorni Don Peyron ha suggerito ma perché non lo adottano i giovani perché no potrebbe essere un piano che a pezzi viene attuato anche in forma decentrata è un piano che si muove io credo che abbia anche già cominciato a diventare la realtà vedo il centro dell'intelligenza artificiale come parte di questo piano vedo Torino capitale dell'innovazione sociale come parte di questo piano non erano cose che sapevamo prima di partire ma abbiamo scommesso sui germogli perché una strategia ha un componente di volontarietà di visione ma anche una componente di opportunismo lo dico in senso positivo di ciò del sapere cogliere le opportunità e credo questo territorio questa Torino metropolitana questa Torino che vorremmo aumentata non possa avere migliore opportunità davanti a sé di un uso intelligente finalizzato e condiviso delle straordinarie risorse che il Next Generation EU ci metterà a disposizione nei prossimi anni vi ringrazio tutti per la vostra attenzione ancora ringrazio tutti coloro che hanno dato un contributo a questo piano sia nella sede di elaborazione tecnica sia soprattutto nella sede iniziale di condivisione grazie grazie mille Matteo per l'illustrazione del piano come detto da te il piano è in via di discussioni infatti sulla chat ci sono via via mille messaggi abbiamo voluto opportunamente tenerla aperta perché anche le critiche anche le discussioni fanno parte del gioco e fanno parte del processo che si sono che è stato avviato dallo scorso settembre e sono frutto di un lavoro collettivo passo la parola al gruppo di resi rappresentato di rene bengo qui quest'oggi per quanto riguarda la parte relativa alla rendicontazione e monitoraggio degli impatti del piano strategico grazie grazie buongiorno a tutti molto felice e onorata di poter condividere con voi questa parte fondamentale del piano due premesse importanti quello che vi racconto oggi è una fase ancora di elaborazione stiamo per chiudere ma essendo uno strumento di rendicontazione che è cresciuto e nato col piano adesso lo racconterò lo stiamo affinando con la città quindi siete i primi con cui condividiamo questo processo e questa metodologia che abbiamo costruito la seconda noterete un abisso rispetto alla qualità estetica delle slide rispetto alle slide di professor robiglio adesso condivido immediatamente la presentazione bene quindi come abbiamo costruito tutta la parte di rendicontazione e monitoraggio degli impatti del nostro piano due premesse fondamentali ehm lo strumento di rendicontazione eh pensato è uno strumento di ricontazione e per cui permetterà appunto di eh dimostrare condividere eh i risultati ma l'abbiamo costruito e pensato non esclusivamente con una finalità comunicativa ma con altre due finalità fondamentale di questi strumenti soprattutto quando nascono insieme a nascono insieme ai piani ai programmi eh e quindi non sono un sistema di valutazione e rendicontazione ex post che ha dei grossi rischi poi di essere molto distante da quello che è da quelli che sono i reali obiettivi quindi sono è un insieme di strumenti che ha come come obiettivo il monitoraggio la valutazione e anche come strumenti di gestione del piano stesso e di miglioramento e capacità di risposta ai bisogni per cui sono stati definiti tutti i nostri assi e tutte le nostre strategie quindi ehm si compone di una parte di monitoraggio che quindi è quella che ci permette di eh tenere monitorato e eh valutato e misurato soprattutto il livello di raggiungimento degli obiettivi che ci siamo dati una parte legata a strumenti invece di valutazione per cui si riesce a intercettare il reale contributo che la città attraverso il piano dà in termini di cambiamenti e di raggiungimenti di obiettivi di breve lunghe e anche lungo e anche lungo e qua introduco il concetto di impatto. Ad oggi non ci sono diciamo framework o metodologie condivise, consolidate di come si scrive un bilancio di un piano di un piano metropolitano. Quello che però abbiamo voluto integrare è il fatto di riuscire ad arrivare a misurare anche gli impatti quindi non fermarci a dire abbiamo raggiunto dei risultati fondamentali e quindi ovviamente il sistema di monitoraggio risponde a questo obiettivo ma abbiamo voluto fare il passo in coerenza con tutto quello che sta avvenendo quindi il fatto che sia ormai riconosciuto che sia fondamentale endogenizzare l'impatto come dimensione di crescita dei programmi, delle politiche e soprattutto di tutto quello che è legato a una capacità di risposta a bisogni territoriali di carattere sociale, ambientale e economico e in generale di sviluppo. E ovviamente la terza anima è quella di rendere poi tutto questo misurabile e comunicabile a tutti gli attori fondamentali che hanno partecipato e che ovviamente saranno anche fortemente coinvolti anche nella parte di rendicontazione e misura dei risultati. Questa struttura fatta diciamo a tre cerchi concentrici assicura che rimaniamo ben ancorati a quella che è la mission sociale della nostra amministrazione quindi appunto tutta l'anima connessa alla sostenibilità e alla generazione di valore positivo, il fatto come insomma anche già sottolineato di avere degli strumenti che assicurino la trasparenza e la contabilità e l'amministrazione e quindi che permettano di comunicare e continuare a coinvolgere tutti gli attori del territorio. L'abbiamo ovviamente a livello metodologico allineati con quelli che sono i riferimenti ad oggi quindi insomma gli obiettivi di sviluppo sostenibile come già anticipato e ripeto abbiamo cercato di fare un po' un passo oltre e quindi di andare anche a intercettare e definire come misurare quelli che sono chiamati gli outcome e gli impatti quindi i cambiamenti nel medio lungo periodo. Di nuovo strumenti che hanno oltre affianità di rendicontare sono strumenti di gestione quindi il fatto di potersi dotare di aver definito degli obiettivi, dei target, poterli misurare, monitorare vuol dire continuare in un processo di miglioramento che permette nel caso in cui sia necessario ma anche in ottica di cogliere possibili nuove opportunità, ho visto i cambiamenti rapidi che avvengono nel nostro sistema in questo momento, la capacità di poter riorientare le strategie. Qua la parte di struttura quindi abbiamo definito un sistema di monitoraggio che ancora una serie di indicatori alle 24 strategie e un sistema di valutazione quindi in ottica più di misurazione di outcome e impatti che è ancorato ai sei assi che sono quelli che ovviamente sei assi di cui vi raccontavo prima del suo robiglio a cui abbiamo ancorato delle dimensioni di cambiamento quindi di outcome. Fondamentale è il fatto che abbiamo utilizzato ovviamente degli indicatori riconosciuti e consolidati come quelli che ci propone l'ISTAT ovviamente già correlati a tutto il mondo dell'agenda 2030 e poi abbiamo creato degli indicatori che chiamiamo sartoriali cioè creati su misura per il nostro piano e soprattutto per il territorio con due finalità. Una è il fatto di cogliere la parte di innovazione del del piano e in parte riconoscendo che alcune azioni dimensioni proposte dal piano sono nuove quindi se pensate a creare un indicatore sulla didattica a distanza è la prima volta che si parla di come misurare il livello didattica a distanza quindi ehm abbiamo voluto creare appunto questi nuovi indicatori in parte fondamentale per riuscire a mantenere quel livello di innovazione e anche relazione fra le diverse dimensioni di valore. Ovviamente a parte il set di indicatori abbiamo creato quella che è la baseline cioè quanto dove era possibile per esempio non per la didattica a distanza che valore oggi hanno questi indicatori in modo poi appunto da poter intercettare il cambiamento generato dal ehm dal piano. Ora vi faccio vedere delle tabelle ma esclusivamente ad esempio nel senso che il numero di indicatori eh è un numero importante. Qua volevo farvi vedere come per esempio rispetto al primo asse quindi l'asse legato alla digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo eh per esempio un indicatore diciamo ehm sartoriale il fatto che abbiamo individuato come TTI questo indice di competitività il Global Talent Index eh è un indice che permette di misurare la capacità dei centri urbani di attrarre, coltivare e fidelizzare talenti in cui eh Torino oggi è la quarta città italiana e la novantanovesima a livello a livello mondiale. Ovviamente sull'asse uno questo è un indicatore ce ne sono sicuramente ehm altri altri anche legati a tutta questa parte fondamentale di gestione del cambiamento che stiamo vivendo quindi l'accesso ai sistemi di ehm connettività, l'incremento ovviamente accesso ai servizi digitali e anche degli indicatori che oltre a misurare il livello di accesso vanno a intercettare a sua volta che cambiamento ha eh su altre dimensioni come la mobilità e quindi troviamo un insieme di indicatori ehm appunto legati agli effetti eh di uno specifico eh di una specifica dimensione. Quindi sono indicatori che oltre a mantenere la dimensione di relazione fra eh valore economico, valore sociale e valore ambientale eh riescono anche a intercettare le ehm correlazioni fra le diversi assi e le diverse e le diverse strategie. Eh il secondo esempio è un indicatore invece un indicatore quello legato all'asse cinque equità sociale eh di genere territoriale vabbè indicatore di tasso di occupazione è un indicatore consolidato importante quindi abbiamo anche avuto questo sette indicatori fortemente legati allo sviluppo economico e sociale per esempio e di cui abbiamo una baseline eh strutturata quest'altro asse oltre con indicatori legati all'occupazione va anche a eh guardare indicatori eh legati per esempio all'inclusione eh all'inclusione sociale per esempio misurando l'intervento di prima la capacità eh per esempio di fare reti partnership pubblico, privato e sociali, il ruolo di attori come del terzo settore o imprenditorialità sociale o altri indicatori legati anche a riduzione del rischio di povertà e accessibilità a eh nuove forme eh dell'abitare. un po' di sottofondo. Questa è invece la una una modalità di comunicazione una modalità con cui comunicheremo la parte sintetica che è già stata ehm ben ben descritta che quindi anche andare a eh misurare il contributo rispetto ai obiettivi di sviluppo sostenibile per cui comunque il nostro il paese se è dato dei target le città contribuiscono e quindi qua eh si va a intercettare l'obiettivo primario che viene in qualche modo impattato dalle ehm dalle strategie. Andando a concludere eh avendo sperando di aver dato un inquadramento di quelli che saranno gli strumenti concreti eh con cui vogliamo supportare e accompagnare la fase fondamentale di monitoraggio valutazione eh ovviamente poi c'è tutta una parte di come verranno restituiti i risultati quindi di rendicontazione eh per cui sono previsti una reportistica periodica quindi possa essere aggiornati sul livello di raggiungimento degli obiettivi dei risultati e degli outcome e un continuo monitoraggio che prevede ovviamente un forte coinvolgimento eh degli attori già coinvolti in tutta la strutturazione di questo piano e che si possa sempre mantenere una coerenza fra le aspettative e gli obiettivi e i risultati che ci siamo dati eh vi ringrazio. Grazie mille professoressa Bengo. A questo punto darei la parola alla senatrice Virginia Tiraboschi per il suo intervento relativo il piano nazionale di ripartenza e eh resilienza. Eh senatrice eh mi sente? Può attivare gentilmente il microfono? Credo che sia già stato attivato mi sentite? Sì perfettamente prego. Benissimo allora grazie per questo invito a tutti gli organizzatori e anche un grazie particolare all'amico Dimitri De Vita con il quale insomma c'è sempre stato un un contatto costante ehm eh e un grazie chiaramente a tutti coloro che sono qui presenti immagino da questa mattina in a questo importante evento. Allora eh spero di non non ripetermi, io mi scuso se non ho potuto assistere a tutti i lavori per impegni d'aula eh ma vorrei fare pochissime considerazioni. Intanto parto facendovi complimenti per per come avete intitolato questo questo momento di riflessione Torino metropoli aumentata e per il logo che avete individuato molto pulito ehm come dire ma estremamente efficace e mi sono chiesta come può diventare Torino una metropoli aumentata e secondo me può diventarlo se eh tutti facciamo un salto culturale in avanti pensando che appunto il ventunesimo secolo indipendentemente dai primi vent'anni proprio a seguito della pandemia eh dovrà rappresentare un momento di forte discontinuità culturale. Cosa intendo con questo? Intendo dire che proprio grazie alle tecnologie la convergenza tra area urbana e le cosiddette aree più eh come dire più interne le aree di provincia no? Le aree per dire dalla quale io provengo ecco ehm si eh si si acceleri eh oggi guardate il presidente Draghi ha detto molto chiaramente che eh chiaramente parlando del nostro territorio nazionale che la convergenza tra il centro nord e il sud deve essere un processo molto veloce e questo processo chiaramente ehm pensando soprattutto al sud no? E al divario che esiste rispetto al centro nord ehm si colmerebbe molto più facilmente se oltre agli investimenti eh e quindi alle ingenti risorse eh eh di cui alla programmazione ventuno ventisette di cui alla programmazione più che programmazione di cui a RECAVERI ehm fossero accompagnate anche da nuove culture e e nel piccolo diciamo così io vedo questo per eh Torino eh come metropoli aumentata quindi una maggiore apertura del centro urbano verso queste aree così come queste aree eh come dire molto più eh prospetticamente ehm rivolte verso eh il cosiddetto centro urbano tutto questo può essere sicuramente facilitato ripeto dalle eh tecnologie che possono portare eh quello che una volta arrivava molto più difficilmente in queste aree lasciatemele definire così interne ehm e quindi noi dobbiamo essere fortemente convinti che eh la transizione no? Sul sul paradigma digitale immagino che voi abbiate anche parlato della transizione ecologica sono i due paradigmi che si ibridano e che rappresenteranno la scommessa di crescita importante del PIL del nostro paese e anche del PIL del del territorio metropolitano torinese ehm eh ripeto la parte digitale eh giocherà ehm giocherà un un ruolo importante non solo ehm pensando alla verticalizzazione del 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 digitale ma pensando proprio che il digitale essendo eh come dire fluido e permeando tutti i settori dell'economia reale banalmente eh come dire ehm ehm si intersecherebbe moltissimo anche con con tutta la transizione ecologica e questo peraltro è stato anche eh fortemente ribadito dal ministro competente che eh che è Cingolani eh che dire sulla eh programmazione eh del cioè scusatemi sul recovery recovery fund e e quindi io dico anche sulla programmazione ventuno ventisette e poi anche sul piano strategico ventuno ventitré sono tutti momenti che devono essere estremamente assonanti e che devono essere tutti coerenti tra di loro ehm sicuramente i tecnici che mi hanno preceduto ho sentito quest'ultima parte del dell'intervento eh insomma vi hanno chiaramente trasmesso un messaggio molto importante che è quello di ehm saper spendere i soldi eh come dire bene e anche io dico in fretta ehm tenete presente che ehm il settanta per cento delle risorse del recovery dovrà essere assolutamente come dire sia che siano loans o grants devono essere spesi entro duemila e ventitré e l'ultima parte entro eh il duemila e ventisei. Io mi auguro che eh dal dal cosiddetto piano strategico poi eh si riesca a passare al al piano eh come definirlo al piano più pragmatico a quello che sostanzialmente consente con eh come dire con grande eh determinazione eh di calare a terra eh i progetti i progetti strategici e questo deve avvenire con eh con come dire con grande lucidità con rapidità e con con grande trasparenza e anche con tecnicality molto manageriali perché poi insomma ci sono eh tutta una serie di 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 parametri che riguardano le rendicontazioni piuttosto che i KPI da eh da da calcolare che insomma richiedono effettivamente ehm competenze e eh professionalità. Eh quindi mh che dire noi abbiamo eh un'occasione storica che è quella proprio di 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 voltare pagina. Sappiamo che eh un po' tutta l'Italia ha sofferto eh dal dal io dico ormai da più di vent'anni nel senso che se guardiamo la crescita del nostro paese rispetto a quelli del eh del del resto dell'Unione Europea con i quali ci dobbiamo confrontare certamente non siamo andati molto bene e possiamo dire che eh insomma il Torino ecco la cosiddetta area eh di 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 Torino Torino eh centro ma poi proprio tutta l'area metropolitana insomma ha sofferto in in modo particolare. Quindi o si coglie questa occasione a pieno oppure eh oppure insomma i tempi non non i i tempi non saranno assolutamente facili guardando eh guardando al futuro. Ehm e ci sono tanti progetti eh che che insomma sono diciamo così eh in in stato anche già abbastanza avanzato. Ci sono state tante persone che che immagino hanno collaborato no alla stesura di 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 questo piano strategico. Io mi sento di 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 poter dire che anche eh insomma io rappresento voi lo sapete forse non tutti lo sanno ma insomma io rappresento una una porzione del 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 mio collegio che sta proprio al all'interno dell'area eh metropolitana e ho un particolare attaccamento alla alla città alla città di Ivrea ehm dove insomma stiamo proprio con 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 gli amici di Torino ecco con gli amici di Torino cercando di portare avanti una eh come dire rigenerazione di eh di di un'area industriale che è quella degli stabilimenti Olivetti dove la progettualità contemporanea sul digitale si cala eh si cala perfettamente. ehm i ieri eh proprio in decima commissione dove dovevamo esprimere un parere sul sul PNRR ho insistito perché eh si eh si evidenziasse perché non era assolutamente evidenziato eh che Torino è stata scelta come eh come sede del dell'Agenzia Italiana dell'intelligenza artificiale e insomma questo fatto di non aver trovato nel PNRR questa questa come dire questa precisazione eh mi aveva un po' preoccupato e e quindi insomma abbiamo ehm voluto ehm come dire puntualizzare ecco questo aspetto oltre a tutti quelli più generici con collegati alla 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 transizione digitale ecco quindi ehm su 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 questo fronte io credo che Torino potrà giocare un ruolo eh un ruolo a livello nazionale ma non solo ma non solo a livello nazionale anche a livello europeo per conto dell'Italia è estremamente importante. Voi sapete che eh l'Europa è come dire un po' acerba no? Sul sul fronte del dell'economia digitale e dobbiamo chiaramente mh io dico dobbiamo nel senso che noi siamo una parte molto integrata no? Noi italiani siamo una parte molto integrata con con l'Europa oggi peraltro Draghi l'ha ribadito molto chiaramente ha detto che ci sono tre punti imprescindibili del suo mandato che sono il multilateralismo l'Europa e eh il patto atlantico e e quindi in Europa noi insomma dovremmo eh saper giocare il nostro ruolo e sull'economia digitale è tutto da scrivere, tutto da costruire e quindi il nostro contributo credo che eh possa essere estremamente importante e quindi il ruolo che Torino può giocare appunto essendo la città individuata ad ospitare l'Agenzia Italiana dell'Intelligenza Artificiale posto che eh deve essere molto chiara la mission di questa di questa di questa agenzia ehm sarà eh un un passo un passo importante nel nella cosiddetta politica del digital compass che eh peraltro il ministro Colao eh ha riferito di voler ehm attuare in tempi molto più brevi rispetto eh a quelli indicati dall'Unione Europea vale a dire duemila e trenta con il target time ma addirittura entro il duemila il duemila e ventisei eh molto ambizioso tutto quello che ha detto perché come voi sapete come voi sapete eh non non si tratta solo delle cosiddette infrastrutture materiali sulle quali eh ci sono una paccata di soldi mi pare quattro miliardi eh e quindi mi riferisco al 5G alla banda larga insomma alla connessione di tutte le aree interne che sono tutte quelle che non sono ancora eh raggiunte da 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 questa infrastrutturazione tecnologica ma eh c'è anche proprio tutto quello che va ehm ripeto sotto il termine di economia digitale che è qualcosa di più complesso che comprende eh banalmente anche non banalmente che comprende anche la la cosiddetta alfabetizzazione di digitale che che non riguarda chiaramente solo la la community in senso largo ma anche eh tutta la l'attività che secondo me è estremamente consistente che si sta ritardando troppo io su questo sono sempre stata abbastanza critica nei miei interventi ehm di eh reskilling e upskilling di eh di molte come dire di molte eh molti uomini e molte donne che che probabilmente non svolgeranno più il mestiere che hanno svolto fino a prima della pandemia e che dovranno insomma guardare eh a nuovi futuri a nuovi futuri professionali ecco ehm quindi ehm come dire c'è 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 veramente c'è veramente molto da fare eh molto da fare ci sono tutta una serie di attività che secondo me sono molto sfidanti molto sfidanti e anche eh estremamente interessanti nelle quali ehm io penso che il contributo eh di c'è la mia amica non so se è ancora collegata la mia amica Alberta Pasquero ecco eh che ha sempre detto le community evolvono ehm quando c'è il contributo generoso di di tanti che credono in progetti ambiziosi e con riferimento ai progetti ambiziosi non è così non è così difficile no? Pensare che si possano unire anche le come dire le le forze più diverse del Parlamento e e quindi visto che noi dobbiamo pensare in grande in grande e quindi solo a progetti ambiziosi perché solo con riferimento a questi progetti che veramente diamo un nuovo volto un nuovo volto alle economie dei nostri territori ehm e diamo comunque nuove prospettive ripeto soprattutto alle giovani generazioni che sono quelle nei confronti delle quali abbiamo il debito più grande il debito più grande perché ehm non solo si deve parlare non so come dire di eh un debito ambientale piuttosto che un eh un forte gap tecnologico ma oggi se pensiamo a tutto quello che insomma è successo ripeto a coloro che giovani insomma hanno dovuto studiare a distanza diciamo così per alla fine eh un anno che è andato a cavallo eh su su due anni scolastici ecco io credo che insomma si debba anche pensare proprio come politici al debito che abbiamo nei confronti di queste giovani generazioni alle quali abbiamo l'obbligo l'obbligo ecco di restituire generosamente ehm quello che per esempio persone come me eh sono eh riuscite a realizzare nella nella loro vita e e quindi eh insomma mh dicevo c'è tanto c'è tanto da fare ma sono tutti progetti secondo me molto molto ambiziosi molto sfidanti ehm ed è intorno a questi che si con si si devono coagulare eh con con delle formule che devono essere eh come dire molto aperte molto fluide eh molto molto ibridate no? Ibridate sia di di personalità sia di di professionalità sia di percorsi eh formativi eh i migliori di dico sempre i migliori eh che poi sta a significare quelli che insomma hanno mh hanno la capacità di essere figure che che portano in equilibrio in equilibrio all'interno di loro stesse e poi all'interno chiaramente di progettualità comuni ehm i come direi le azioni le idee eh i valori più 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 forti che sono proprio quelli ripeto attorno ai quali eh si 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 costruiscono dei nuovi dei nuovi modelli tutti stiamo dicendo che dobbiamo pensare a nuovi modelli di crescita e di sviluppo in termini discontinui spesso io non vi nascondo che eh mi confronto con persone che 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 fanno fatica no? A vedere questi questi modelli e quindi eh se coloro che fanno fatica con umiltà ehm eh ascoltano chi fa un po' meno fatica è per quello che dico che queste devono essere community molto aperte che non devono badare non so come dire ai ruoli eh alle posizioni agli incarichi ma badare più ripeto ai contenuti ai valori alle idee e e a quello che che ognuno indipendentemente ripeto dall'appartenenza ehm dall'appartenenza politica piuttosto che eh da 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 ruolo che occupa eh riesce a portare generosamente per lo sviluppo di eh una progettualità ambiziosa. Ecco ehm un'ultima cosa molto perché immagino di aver già terminato il mio tempo un'ultima cosa sulla quale ho un po' insistito voi avete sicuramente parlato dei delle sei misure dei sei assi sei sei cluster chiamatevi come volete del PNRR ho insistito molto perché ehm la misura che sicuramente sta in tutti eh cioè per me a tutti gli assi no? Eh che riguarda eh le risorse che effettivamente saranno date ai giovani e alle donne che come ha detto anche il nostro attuale premier sono eh i i due gruppi sociali che hanno maggiormente patito ecco io vorrei che questa in qualche modo mh come dire fosse individuata in maniera molto chiara di modo che eh le le varie progettualità volte a sostenere ripeto i giovani piuttosto che le donne nelle loro attività di formazione costante di imprenditorialità di innovazione di creatività e quant'altro si possano anche mh facilmente recuperare senza dover andare a riscontrare tutti i singoli progetti che eh credo sono portati avanti da mh donne e e da giovani e insomma mi è parso almeno all'interno della decima commissione che che questo suggerimento sia sia stato tenuto nella dovuta considerazione poi adesso vedremo eh quale sarà il il documento il documento finale che che arriverà che arriverà in aula dopo dopo i vari suggerimenti che eh arrivano da tutte le commissioni a seguito delle audizioni dei ministri ehm un ultimissimo proprio ultimissimo eh come dire spunto eh di di riflessione e questo lo dico proprio perché anche un tema che a me sta molto a cuore eh io ritengo che diciamo una parte importante del del rilancio del nostro paese possa avvenire anche eh se se si calano a terra con con estrema velocità ehm i i progetti di ehm riqualificazione territoriale passando attraverso la come dire la riqualificazione del del dell'infrastruttura eh edilizia del nostro del nostro territorio sia a scopo residenziale sia a scopo ricettivo e quindi ehm oltre lasciatemelo definire così al settore al settore edilizio anche eh tutto quello che eh che riguarda il settore del 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 turismo che poi è un ambito che io seguo personalmente con grande interesse anche per eh come dire esperienza esperienza professionale e e lo dico perché insomma stiamo già vedendo quali sono i risultati eh sul sul bonus centodieci per cento ehm che secondo me dovrebbe essere esteso anche ripeto a alle strutture ricettive e più in generale a alle riqualificazioni edilizie delle delle cosiddette aree interni, i cosiddetti borghi che sono eh quell'eccellenza unica italiana che si trova in quei cinque mila ottocento comuni che hanno meno di cinque mila abitanti e che possono diventare delle porte ehm interessanti d'ingresso sia per flussi residenziali che desiderano abbandonare le aree urbane eh perché preferiscono in una determinata eh come dire in un determinato momento della loro vita eh vivere ecco in aree dove la qualità è migliore la qualità della vita è migliore perché magari c'è più verde c'è si può stare molto di più all'area aperta e si può lavorare appunto grazie dalle tecnologie eh da remoto in queste aree piuttosto che provarsi magari in centro città in in piccoli in piccoli appartamenti peraltro io vi devo dire che questa è proprio una tendenza che mi viene confermata anche da dalle agenzie dalle agenzie immobiliari ehm e e anche a scopo a scopo turistico ehm c'è c'è proprio una una tendenza da parte dei dei flussi turistici non solo nazionali ma anche internazionali apro una parentesi quelli internazionali prima che si riprendano ci vorrà un po' di tempo ehm a eh come dire vivere la la experience italiana mh con eh con chi conosce effettivamente bene il territorio e quindi con quelle famiglie o comunque con coloro che hanno eh radici su 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 territori che magari hanno dovuto abbandonare per ragioni di lavoro venti trent'anni fa e nei quali ritornano mh in un certo periodo della loro vita per riviverli eh facendo anche accoglienza e comunicando come eh ottimi ambasciatori quelli che sono ripeto le le caratteristiche peculiari di di questi territori e c'è proprio la tendenza da parte di molti turisti a vivere queste queste esperienze eh queste esperienze di viaggio eh secondo me se appunto il turismo che peraltro una delle industrie più digitali lo era fin da venticinque anni fa no? Quando pochi capirono la potenzialità di internet ecco diciamo che il turismo invece eh insomma aveva intuito il potenziale del digitale anche se poi noi non l'abbiamo colto appieno eh nel senso che non ne abbiamo mai fatto una vera e propria industria turistica comunque eh questa è anche l'occasione per ehm ripeto per rilanciare eh un un settore che lasciate non dire è totalmente è totalmente piegato ehm non so se se insomma ho detto abbastanza il mio tempo credo di averlo esaurito grazie mille grazie mille senatrice si ha detto abbastanza la ringrazio per questi eh aggiornamenti dalla decima commissione in generale il panorama che è riuscito ad offrire per quanto riguarda il piano di eh ripartenza e resilienza eh per la ringrazio e auguro un buon lavoro per esigenze di programma diciamo che dobbiamo andare avanti con gli altri interventi quindi grazie mille ehm grazie a voi grazie e darei la parola a questo punto al alla direttrice della regione Piemonte del coordinamento politica e fondi europei per l'intervento relativo eh la programmazione europea del nuovo settennato duemilaventuno duemilaventisette eh mi sente direttrice buongiorno a tutti eh buongiorno a tutti eh io cercherò di eh insomma velocemente eh dirvi che cosa abbiamo già predisposto per la programmazione dei fondi ventuno ventisette e eh come ci stiamo muovendo e quindi anche eh come potete contribuire a questa programmazione perché eh siamo proprio in una fase di eh ascolto e di raccolta di eh così eh vostre suggestioni e quindi eh oltre a a vedere quello che è già il lo stato di avanzamento potete anche poi eh aiutarci a renderlo ancora più coerente più ehm così in qualche modo funzionale a quello che eh il territorio vuole o quello che comunque eh voi avete rilevato in questo eh lavoro di ehm coinvolgimento del del territorio metropolitano ehm utilizzerò qualche slide perché così eh rimane più eh facile diciamo seguire eh il quindi eh noi abbiamo scusate un attimo eh scusate un attimo eh solo che capisco come ecco eh noi abbiamo ehm cercato naturalmente in questa eh prima fase di eh considerare nella scrittura del nostro eh documento strategico unitario che è il documento diciamo base eh per la nuova programmazione tutti quelli che sono gli indirizzi strategici eh che eh l'Europa ci ha dato sotto diverse forme quindi la strategia USALP il agenda venti trenta e anche la strategia nazionale di sviluppo sostenibile così come la nostra programmazione naturalmente si inserirà in un insieme di risorse che in questo momento eh si stanno definendo e quindi dovrà essere eh coerente con quanto avviene naturalmente anche sul PNRR eh ma anche su altri fondi in modo da cercare di ottimizzare le risorse e fare in modo che agiscano eh in diciamo in maniera eh coerente e e coesa in modo da dare il massimo la massima efficacia possibile ehm il documento eh è stato diciamo redatto con l'aiuto di Ires per la parte dei dati eh con l'autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo del Fesel con l'autorità ambientale della regione Piemonte e con tutte le eh diciamo direzioni regionali con il coordinamento delle direzioni che ho l'onore di eh dirigere. Eh il documento eh in questa prima bozza voi lo potete comunque eh consultare e trovare su eh un sito che è www.piemonte2021-2027.eu dove trovate tutta la documentazione che man mano produciamo. Questo è un documento che ha un centinaio di pagine quindi poi io oggi cercherò di di riassumermelo eh velocemente però eh se volete poi andarlo a leggere lo potete leggere eh tranquillamente. Eh naturalmente come dicevo il documento tiene conto di tutte quelle che sono le eh le nostre le indicazioni che abbiamo a livello europeo a livello italiano e anche il contesto socio-economico nel quale ci muoviamo perché ovviamente le scelte che la regione Piemonte farà saranno eh legate anche a quello che sono i eh i dati eh che eh ci contraddistinguono. Quindi noi abbiamo preparato questa prima bozza di lavoro. Adesso siamo in una fase di consultazione del partenariato regionale. Infatti abbiamo fatto gli incontri sulle varie province con tutti gli stakeholder. Eh adesso abbiamo ancora qualche incontro e eh poi eh redigeremo sulla base di tutto quello che arriverà al documento finale che poi sarà dato al Consiglio regionale che farà la discussione politica e lo approverà perché essendo un documento di programmazione per i prossimi sette anni ovviamente di competenza del Consiglio regionale. Questo sarà il documento base che servirà poi per stilare i programmi operativi regionali del FESR e dell'FSE e per andare in per poi arrivare alla produzione proprio dei dei POR dove ci saranno proprio gli assi, le misure, insomma la ripartizione delle risorse. Eh parliamo poco di FEASR e quindi di agricoltura perché il FEASR ha avuto un percorso parallelo diverso. C'è stata una proroga di due anni rispetto al alla passata programmazione e quindi la programmazione nuova del FEASR si farà eh con dei tempi diversi e con delle regole eh molto eh definite per il FEASR e quindi in questo momento noi eh siamo concentrati sulla programmazione invece FEASR e FSE che abbiamo bisogno che parta più in fretta possibile perché la quattordici venti è praticamente finita e eh noi dobbiamo correre per fare in modo di poter utilizzare le risorse ventuno ventisette perché se no abbiamo un problema naturalmente di eh un anno di vuoto che non possiamo permetterci perché eh le nostre attività devono proseguire. Eh i tempi che ci siamo dati sono questi eh quello che voi vedete in rosso sono le parti che non dipendono solo da noi perché in questo momento manca ancora la definizione totale del quadro regolamentare da parte della Commissione Europea e anche dell'accordo di partenariato che è quell'accordo che lega l'Italia con la Commissione Europea dove ci saranno le regole di che cosa si può e che cosa non si può finanziare quindi in questo momento ci mancano ancora delle regole eh di dettaglio per riuscire ad arrivare ai POR ma nel frattempo andiamo avanti con la strategia perché comunque la strategia eh quella è la maggior parte delle regole le conosciamo ma poi per fare proprio le azioni avremo bisogno delle eh delle regole diciamo così eh definitive. Eh naturalmente gli obiettivi prioritari sono quelli che ci dà l'Europa che ormai tutti conosciamo credo l'Europa più intelligente, più verde, più connessa, più sociale, più vicino ai cittadini quindi questi sono gli obiettivi che dovremmo in ogni caso rispettare e abbiamo già alcune regole cioè il FESR dovrà per l'ottantacinque per cento delle risorse che saranno a disposizione andare sui primi due obiettivi quindi l'ottantacinque per cento delle risorse sarà messo su Europa più intelligente e Europa più verde. Queste saranno la parte predominante eh delle attività che potranno essere finanziate col FESR di cui l'otto per cento andrà sullo sviluppo urbano. Per quanto riguarda invece il Fondo Sociale Europeo sappiamo che il venticinque per cento dovrà essere dedicato all'inclusione sociale, il cinque per cento al contrasto alla povertà, il tre per cento al contrasto alla deprivazione materiale, mentre eh c'è anche una parte del dodici virgola cinque per cento dedicata al all'occupazione giovanile e in particolare al al recupero dei dei NIT che sono quei ragazzi che non studiano, non lavorano e non cercano lavoro. Quindi questo sono regole che già conosciamo. Eh allo stesso modo eh sappiamo che ci saranno delle condizioni abilitanti. Queste sono una novità rispetto a questa programmazione, rispetto alla precedente e sono molto importanti perché eh devono essere rispettate per poter partire coi programmi, non è concesso un periodo di tempo per mettersi in regola e soprattutto basta che anche una sola regione in Italia non le rispetti perché anche le altre eh regioni non possano avere il rimborso delle spese certificate. Quindi eh bisognerà fare un'azione complessiva proprio come Italia, come unione del di tutte le regioni per fare in modo che tutti le rispecchino e le e le portino avanti. Se ne volete il dettaglio poi anche questo trovate tutto sul sul nostro sul nostro sito. Ehm che cosa eh quante sono le risorse che avremo a disposizione? Allora sappiamo che il le risorse eh in questa programmazione saranno superiori alla programmazione precedente. Quindi per quanto riguarda le regioni più sviluppate il noi avremo un aumento complessivo di risorse del venticinque virgola sette per cento. Però dobbiamo fare attenzione perché invece per quanto riguarda le CTE che sono li conoscete meglio come programmi interreghi Italia Francia, Italia Svizzera sono eh ci sarà una diminuzione del diciassette virgola sette per cento. L'altra novità fondamentale di questa programmazione è che mentre nella precedente il finanziamento europeo era il cinquanta per cento e l'altro cinquanta per cento veniva garantito dallo Stato e dalle regioni eh in questa programmazione il finanziamento europeo copre solo il quaranta per cento quindi il sessanta deve essere coperto dal dallo Stato e dalle regioni. Eh che cosa vuol dire per il Piemonte? Allora i dati che oggi vi do sono dati eh stimati non ancora definitivi perché è ancora in corso una trattativa con con il governo per definire quante risorse a livello nazionale andranno sui PON quindi sui programmi operativi nazionali gestiti direttamente dai ministeri e quanti andranno sui POR quindi sui programmi operativi regionali non solo ma c'è anche in corso una discussione tra regioni quindi per noi tra regioni diciamo del no più sviluppate eh per definire esattamente le quote di riparto della cifra complessiva quindi queste sono stime ma più o meno dovrebbero essere eh abbastanza veritiere potrebbero cambiare di qualche decina di milioni di euro quindi mentre nella precedente programmazione avevamo un miliardo ottocentotrentotto milioni per FESER FSE in questa programmazione dovremmo averne due sette e qualcosa quindi insomma novecento milioni in più eh di eh risorse disponibile di queste novecento milioni però ricordiamoci che il cofinanziamento deve crescere e quindi il cofinanziamento a carico dello Stato dovrebbe essere cinquecentoventi milioni e il cofinanziamento regionale dovrebbe aumentare di duecentoventi milioni questo significa uno sforzo importantissimo per il bilancio della regione Piemonte che già insomma non gode di ottima salute ma eh sarà necessario naturalmente trovarli perché eh questo ci porterà ad un aumento comunque complessivo di risorse a disposizione eh di eh novecento milioni ehm come è composto il documento strategico? Il documento strategico ha una parte generale eh che dove insomma si si tratta all'argomento complessivamente gli strumenti a disposizioni c'è una parte dedicato al contesto piemontese quindi lo scenario economico il posizionamento del Piemonte rispetto ad agenda venti trenta e ci sono i cinque obiettivi e per ogni obiettivo c'è un'analisi dei dati un'analisi SWOT e le linee di indirizzo più una parte finale di complementarietà eh con tra i vari fondi. Eh quello su cui vi chiedo se avete voglia di leggere il documento e di concentrarvi sono le linee di indirizzo perché queste sono proprio le scelte che la regione Piemonte farà e che quindi determineranno poi eh la scrittura dei programmi operativi. Eh il le scelte sono naturalmente legate appunto dicevamo ai vari obiettivi quindi eh per i diversi obiettivi noi abbiamo già indicato tutta una serie di eh indirizzi che ci sembrano importanti che ci sembrano prioritari però accogliamo volentieri ulteriori spunti indicazioni eh o eh anche critiche perché eh potrebbe esserci delle cose che abbiamo indicato che in realtà eh qualcuno non non gradisce. Allora quando parliamo di Piemonte più intelligente quindi parliamo di competitività e innovazione eh naturalmente parliamo di competitività e innovazione del sistema produttivo con attenzione soprattutto alle PMI eh partendo da quelle che sono le filiere tradizionali che contraddistinguono il il Piemonte ma cercando magari anche di indicare qualche eh ulteriore filiera che magari fino ad oggi non abbiamo eh ancora indicato su questo eh c'è eh stato la la produzione di un documento da parte di il Confindustria Piemonte eh che naturalmente eh adesso poi recepiremo all'interno anche del nostro del nostro DSU che ha fatto appunto un'analisi eh più approfondita della parte industriale della parte di eventuale sviluppo anche di ulteriori filiere oltre a quelle tradizionali. Eh parliamo naturalmente di tecnologie digitali e di servizi digitali perché sono eh importantissimi sia per i cittadini sia per la pubblica amministrazione sia per le imprese eh del rafforzamento dei processi di crescita e competitività delle PMI di formazione tra l'altro in questo nostro eh tour sui territori è stata credo la cosa che più è stata richiesta formazione 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 per i lavoratori formazioni per eh chi deve entrare nel mercato del lavoro alta formazione eh per avere le competenze necessarie appunto a questo eh a questa realtà nella quale ci troviamo che è in sviluppo eh velocissimo e quindi c'è bisogno veramente di eh aiutare tutti pubblica amministrazione, imprese e cittadini a crescere e a eh acquisire eh nuove competenze. Eh si parla di mobilità sostenibili, di nuovi vettori energetici, naturalmente di idrogeno, infatti questo tema ci è caro anche molto sul PNRR eh sul quale eh insomma speriamo di avere una 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 parte comunque eh significativa rispetto a questa tematica e poi naturalmente tutto quello che riguarda la Bull e non solo quindi le connessioni perché sappiamo quanto siano importanti e quanto ahimè ancora abbiamo da fare sul territorio piemontese perché abbiamo tanti territori che ancora non hanno delle connessioni diciamo eh funzionali eh a quello che che servirebbe. Eh sull'obiettivo due che insieme all'obiettivo uno abbiamo detto che sono quelli dove andranno le maggiori risorse del FESR si parla di clima energia, risorse naturali, economia circolare, quindi tutto quello che sono le infrastrutture verde in ambiente urbano e periurbano, quindi rispetto a quello che diceva eh Robiglio prima naturalmente qui potre si potranno trovare delle risorse dedicate, abbiamo naturalmente l'efficiente efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, lo sviluppo di reti, di strutture, impianti di stoccaggio dell'energia, il supporto alla produzione di energie rinnovabili, tutto quello che riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici, alla prevenzione dei rischi, l'economia circolare, la gestione forestale sostenibile, la gestione sostenibile delle risorse idriche, la riduzione degli inquinanti, il rafforzamento della biodiversità, la tutela del paesaggio, la tutela del suolo, il miglioramento della qualità dell'aria che sappiamo eh insomma che in questo periodo è particolarmente eh diciamo un argomento di di grande interesse e la ciclabilità. Eh sulla la parte dell'obiettivo terra e reti, trasporti e logistica, si parla naturalmente di logistica, anche questa è una richiesta enorme che è emersa dal dal territorio in moltissimi in moltissimi fronti e anche di trasformazione digitale della logistica perché sappiamo quanto il digitale applicato alla logistica possa eh migliorarne eh l'efficienza e l'efficacia. Eh lo sviluppo del del trasporto su ferro, l'intermodalità e le reti ciclabili di nuovo che sono comunque una anche un una priorità che questa regione si si vuole dare ehm nel insomma nella sua nei suoi investimenti. Eh passiamo invece all'obiettivo quattro che il Piemonte è più sociale eh questo naturalmente è più competenza del fondo sociale, si parla di occupazione, di competenze, di inclusione, quindi adesso non vi eh elenco tutte le varie cose che abbiamo scritto sul documento ma eh naturalmente parliamo di formazione, di di alta formazione, di inserimento lavorativo, di tirocini, di apprendistato eh di sostegno alla partecipazione delle donne al mercato del del lavoro ma anche di sostegno alla creazione di impresa così come eh la lotta alla dispersione scolastica e eh il eh in questa parte eh vanno anche eh perché così è previsto negli obiettivi anche se poi in realtà possono essere anche eh su altri aspetti il sostegno al turismo, al patrimonio culturale paesegistico e al percorso di valorizzazione delle delle residenze sabaude, il sostegno allo sport, alle qualificazioni degli impianti sportivi anche se su questo magari poi ci potrebbero essere anche delle misure ad esempio sulla parte più dove si parla di energia e di risparmio energetico perché sappiamo quanto gli impianti sportivi siano energivori e quindi quanto si possa ehm se si lavora su questo aspetto eh cercare di ridurre veramente eh le insomma i consumi anche poi eh a favore di di un utilizzo negli anni anche per sgravare un po' il il bilancio eh degli enti che gestiscono questi impianti che eh oggettivamente sono eh sono molto costosi. Ehm sullo sull'obiettivo cinque il sviluppo dei territori e la capacità amministrativa eh si parla di rafforzamento della capacità amministrativa ma anche anche qui di nuovo di rigenerazione urbana rilancio delle periferie e una città a misura dei cittadini quindi verde sostenibile eh vicina eh insomma i cittadini e noi vorremmo eh implementare molto la progettazione integrata di area cioè cercare eh questo riguarda soprattutto le aree diciamo non ovviamente la città eh le città copoluogo ma sulle aree del Piemonte cercare di avere delle aree omogenee sui quali fare dei progetti che siano di sviluppo di un'area che non siano progetti singoli eh che poi diciamo non riescono a innescare eh degli sviluppi ma a fare invece delle delle azioni veramente di eh di progettazione integrata di area di superamento del digital divide eh lo sviluppo delle aree interne ma anche un'attenzione alle città medie perché si è parlato spesso di borghi si è parlato di città metropolitana però eh le città medie possono avere un ruolo importante sul territorio quindi quello che io vi chiedo è di se avete voglia di leggere il documento eh che trovate sul sito www.piemonte duemilaventun-duemilaventisette.eu e eh mandarci i vostri contributi possono essere contributi scritti oppure possono essere scritti direttamente sul modulo che trovate eh sul sito però a noi interessa molto eh fare in modo che questo documento strategico sia veramente la strategia del Piemonte per i prossimi dieci anni per eh insomma dare forma a questo futuro che vogliamo costruire tutti insieme quindi vi ringrazio e spero di essere stata chiara. Chiarissima e grazie mille per il prezioso contributo di eh direttrice Casagrande. A questo punto darei la parola prima delle conclusioni a cura della sindaca metropolitana a Pendino al direttore generale della sempre della città metropolitana Filippo Dani per il suo intervento relativo all'attuazione del piano strategico. Allora buongiorno a tutti io mh cerco di essere breve perché non voglio rubare tempo alle conclusioni di questo incontro. Brevemente ehm volevo solo diciamo così condividere con voi l'impostazione che la città metropolitana eh vuole dare dal punto di vista più organizzativo per seguire anche l'attuazione del del l'attuazione del nostro piano strategico. Allora diciamo subito che il fatto di ehm avere impostato il nostro piano eh strategico su eh sulle sei missioni che sono quelle del piano nazionale eh di ripresa di resilienza del PNRR eh fa sì che da un lato implementando il nostro piano strategico abbiamo la possibilità in una logica bottom up anche di eh implementare e di contribuire anche a realizzazione del piano nazionale. Dall'altro lato che le azioni che vengono individuate all'interno di questo quadro possono trovare anche ehm finanziamento ehm e parlo soprattutto delle azioni di sviluppo locale. Ehm il eh piano strategico peraltro come abbiamo preso prima dall'intervento della dottoressa Casagrande potrà trovare dunque occasione di finanziamento sia per quanto riguarda la realizzazione del piano nazionale ehm di 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 riprese di riesilienza sia nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali eh duemila ventuno eh duemila ventisette. Eh detto ciò eh sì eh a questo punto vedete questa slide perché cerchiamo di capire come gestire eh internamente al nostro interno eh eh il piano strategico. Eh le sfide che abbiamo davanti peraltro sono molte perché eh da un lato dobbiamo dare attuazione al piano strategico ma sappiamo anche che presto si porrà anche il problema della gestione rilevante dei fondi del next generation nonché anche eh la gestione dei fondi del bilancio eh duemilaventuno duemilaventisette. Eh e quindi è evidente che bisogna individuare eh un dipartimento, un ufficio che sarà il coordinatore all'interno del nostro ente. Questo questi uffici sono quelli che fanno capo al eh eh alla al dipartimento dello sviluppo eh dello sviluppo economico ehm sapete che il dirigente del dipartimento è il dottor Lupo eh ringrazio lui ringrazio eh il dirigente del dipartimento ringrazio anche i funzionari e tutti i collaboratori perché eh loro ovviamente hanno avuto il merito principale nell'elaborazione di questo piano strategico e saranno anche i principali soggetti che poi saranno chiamati ad attuarlo anche in seguito. Eh perché il dipartimento? Perché questo dipartimento è quello che si occupa già di pianificazione strategica metropolitana, si occupa già eh eh della programmazione dello sviluppo territoriale della qualificazione urbana eh perché segue già i progetti europei e internazionali. Inoltre su questo dipartimento ehm si è sviluppata un'importanza, esperienza, una competenza degli anni che va dalla gestione dei 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 patti territoriali fino ai recente eh bando delle periferie. Quindi diciamo che internamente eh 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 il eh dipartimento sviluppo economico sarà il riferimento e sarà farà anche un po' da sintesi su tutte le attività di programmazione eh delle delle eh delle altre degli altri dipartimenti, quindi dipartimento territorio di inizio e viabilità e l'ambiente e la vigilanza ambientale. ehm per quanto invece attiene le modalità attraverso cui eh la città metropolitana pensa di eh gestire il piano strategico ehm nei confronti eh del mondo esterno, noi siamo convinti che eh il piano strategico debba davvero essere considerata una piattaforma per l'implementazione delle politiche, dei progetti non solo interni nostri, quindi non solo della città metropolitana ma anche di tutti quei soggetti verso i quali la città metropolitana svolge comunque un ruolo di regia e di stimolo. Eh l'idea insomma è quella di far sì che anche l'implementazione del piano strategico sia condivisa esattamente come è accaduto nella fase di costruzione del piano. E quindi ehm l'idea e la proposta è quella di eh eh creare un rapporto permanente con chi ha contributo con chi ha contribuito alla alla redazione del piano, cioè creare eh un rapporto stabile con eh i principali attori che hanno contribuito al piano. Ovviamente regione, città di Torino, eh rappresentanti delle zone omogenee, ma anche eh gli altri stakeholder, gli attori del territorio, ehm università, Politecnico, Camera di commercio, organizzazioni sindacali, associazioni di imprese. Eh in sostanza ehm vogliamo far sì che non ci si limiti solo a una costruzione condivisa ma che vi sia anche la fase successiva che è quella di attuazione del piano strategico e che sia la più possibile condivisa. Questo potrebbe anche assicurare, no? Se lavoriamo insieme eh la possibilità di eh finanziare, no? Anche le eh le possibili azioni sul territorio, ci può garantire un aggiornamento del piano e anche un riorientamento del piano quando vediamo che non riusciamo a essere sufficientemente efficace, nonché eh di assicurare anche un corretto monitoraggio, una rendicontazione. Il tavolo cioè in sostanza dovrebbe eh assicurare quella governance sui sui tre contesti che come vedrete, come vedete in tutti ehm dire in tutti i contesti di sviluppo rientrano cioè quello ambientale, quello economico e quello sociale che sono i tre ambiti eh su cui siamo chiamati a operare mh allo stesso modo. Eh ho sentito anche eh l'intervento della dottoressa, della professoressa Bengo eh molto interessante soprattutto per chi come dire come direzione generale ha anche il compito di fissare obiettivi, di individuare indicatori, di eh eh valutare risultati da parte eh da parte dell'amministrazione. Ehm mi piacerebbe anche che questo tavolo diventasse eh eh un primo eh sistema di valutazione partecipativa, cioè di far sì che i destinatari delle nostre azioni, delle nostre politiche che prevediamo all'interno del piano strategico abbiano anche la possibilità ehm di valutare i risultati che sono ottenuti, che sono stati ottenuti. Sarebbe importante collegare questa valutazione alle performance organizzative del nostro ente. Eh questo ci consentirebbe da un lato di rafforzare i sistemi di gestione delle performance che è uno degli obiettivi principali eh dei nostri enti a livello di organizzazione interna. Dall'altro lato di provare un po' a eliminare quell'autoreferenzialità di cui tutti siamo portatori in modo particolare i nostri enti ehm considerando quindi il valore pubblico che viene generato ehm secondo anche la percezione di chi vi ha partecipato. Io ehm chiudo qui l'intervento eh vi ringrazio e avremo occasione di risentirci. Grazie. Grazie mille direttore. A questo punto mi avrei alle conclusioni della sindaca metropolitana Chiara Pendino. Eh so che eh è collegata, è stata collegata praticamente per tutto il tempo della conferenza. Eccomi qua, mi sentite? Eccoci, sì, forte e chiaro. Buongiorno a tutti e a tutte, grazie ovviamente a chi ha partecipato non solo nella giornata di oggi ma a tutti quei soggetti che hanno contribuito alla redazione di questo piano strategico che io ritengo essere un'eredità importante del territorio non solo per i suoi contenuti che sono stati raccontati poi appunto il piano come è stato giustamente detto è pubblicato, è stato discusso in consiglio metropolitano, è stato discusso anche con le aree MGM, con i territori, con le sostegno di categoria quindi credo che ormai sia noto. Eh quindi non solo è un'eredità nei suoi contenuti ma credo che sia anche un'importante eredità nella modalità con cui eh siamo arrivati alla sua definizione quindi in un percorso come è stato raccontato di eh di condivisione eh ma anche come dire in un percorso in cui la condivisione porta a quello che diceva adesso il dottor Dani che è una sorta di corresponsabilità nel trasformare quelle che sono eh oggi eh sei assi eh ventiquattro strategie e centoundici azioni in eh atti concreti e eh se eh come dire questo territorio metropolitano eh io lo racconto sempre è uno dei più vasti anche più complessi nella diversità ehm da io dico sempre che è una città metropolitana che ha un capoluogo ovviamente che è Torino ma che poi tiene insieme eh dei comuni come sestre con delle come dire diversità enormi e proprio in queste diversità come emerso anche dalla discussione e definizione di questo piano strategico che emerge eh un valore aggiunto che sta eh nelle differenze nella capacità che deve avere deve avere un territorio metropolitano così vasto oltre trecento comuni di riuscire a in modo complementare a rafforzarsi. Ecco io penso che la sfida che noi oggi eh abbiamo davanti ehm stia proprio nel riuscire a mettere a terra questo eh piano strategico e riuscire a mettere a terra non dipenderà solo dalle risorse finanziarie e quindi io credo che qui sarà molto importante la capacità di città metropolitana in senso ampio di tutte le sue parti di attingere alle risorse dei fondi europei che non sono solo ovviamente il recovery fund ma sono anche la programmazione eh come dire ordinaria della regione Piemonte su cui appunto si è parlato anche recentemente in altri incontri ma dipenderà soprattutto di qui la sfida dalla capacità che avremo come territorio eh di ehm mantenere questa coesione tra soggetti affinché queste risorse arrivino sul nostro territorio su degli assi definiti su delle azioni concrete per non disperdere come dire le risorse europei magari su rivoli che poi non ottengono e non portano al all'effetto ehm penso che eh come dire il lavoro che si è si è fatto nell'identificare come assi di sviluppo una un'area metropolitana evidentemente più verde eh affrontando la sfida della transizione ecologica eh con una particolare attenzione agli agli ecosistemi pensiamo alle sfide che abbiamo davanti sono state citate prima se non era dottor Robiglio del centro per l'intelligenza artificiale o al recente anche riconoscimento eh di luogo di centro di competenza per innovazione sociale ci diano un po' la dimensione del fatto che oggi le sfide si vincono se è l'ecosistema che va ben oltre i confini prettamente territoriali di un comune o di un capoluogo se quell'ecosistema è forte nel mettere assieme tutte le competenze che ci sono e se in modo compatto si propone nei confronti appunto di eventuali opportunità non solo economiche e quindi torno al fatto che non servono solo risorse ma serve anche capacità di governance e quindi ehm quello che diceva prima il dottor Dani per cui noi ci stiamo strutturando come città metropolitana con un dipartimento è evidentemente un elemento che però deve dare a fianco la nostra capacità come città con gli altri enti città metropolitano ovviamente con gli altri enti istituzionali dalla città di Torino alla regione Piemonte alle associazioni di categoria agli ordini l'ATC eh i distretti che stanno che nasceranno sul nostro territorio tutti questi soggetti eh dovranno eh riuscire appunto a convergere nel portare avanti questa progettualità ehm è un'occasione storica è stato detto precedentemente perché eh questa pandemia ha rivoluzionato eh come dire il nostro modo non solo di pensare ma anche evidentemente di lavorare affrontare anche e rivedere anche alcune priorità e per noi avere un piano strategico a fianco altri strumenti di programmazione di cui abbiamo raccontato è una guida che ci accompagnerà e detterà sostanzialmente delle priorità già condivise nel attingere appunto alle nuove risorse. Io sono convinta che questo metodo che abbiamo affrontato anche con l'aiuto di soggetti esterni che ringrazio che ci hanno sollecitato e mantenuto anche secondo me quell'indipendenza che eh costruttiva nel senso che stimola anche dall'uscire in qualche modo dalla visione che abbiamo sempre solo noi di noi stessi come ente eh penso che questo percorso sia un percorso appunto eh che lascia questa eredità e che al di là di quelli che saranno come dire gli accadimenti magari elettorali i cambi nei comuni che ci potranno essere non riguarda solo evidentemente il comune capoluogo ma è un qualcosa che ormai è entrato all'interno della struttura è entrato all'interno del territorio e quindi sono convinta che ci sarà questa corresponsabilità anche nei prossimi mesi eh abbiamo poco tempo perché la sfida di recovery ci pone tempistiche molto molto eh veloci e io credo che mh insomma nonostante sia un momento particolarmente difficile da tutti i punti di vista economico sociale evidentemente anche dal punto di vista salute alla luce della pandemia che stiamo vivendo penso che dovremmo essere avere quel moderato ottimismo che deriva dal lavoro fatto su questo piano strategico per permettere appunto al nostro territorio di tornare a crescere sfruttando le competenze e le professionalità che esistono e che hanno solo bisogno di essere messe a sistema ed essere appunto inserite in percorsi di programmazione e di finanziamenti europei quindi grazie davvero a tutti coloro che hanno collaborato e che continueranno a farlo noi ci aspettiamo che questa eh come dire questo approccio possa continuare anche nei nei prossimi mesi e sono certa che da qui potranno potremmo trasformare appunto gli assi in azioni concrete che poi arriveranno a migliorare eh la qualità della vita dei nostri cittadini e nostri cittadini partendo proprio dal tema della sostenibilità che non è solo ambientale come sappiamo ma anche economica e sociale quindi grazie a tutti e sicuramente ci rivedremo per ulteriori incontri perché come è stato anche raccontato c'è tutto un sistema anche di monitoraggio e come dire di di recall che ci eh porta al di là di quelle che possono essere le nostre connotazioni il nostro eh interesse personale a eh riconfrontarci far sì che questo piano possa cadere a terra il più velocemente possibile grazie grazie mille sindaca mi accordo anch'io ringraziamenti di tutti a tutti coloro che sono stati presenti quest'oggi siamo arrivati al termine di questo incontro di presentazione del nuovo piano strategico duemila ventuno duemila e ventitré eh auguro una buona serata a tutti e se concludono il lavoro grazie mille ancora grazie mille grazie mille Grazie a tutti.